E' automatico, mica con la macchina fotografica, la odia, vedi? Vedi che la odia? E' quella che gli dà fastidio, guarda che è pronta ad abbranarti. Chi è? Prezzo, senza che gli facevo chi è a tenerti. Senti, io non ti riprendi per la private. No, per la private, grazie. O vuoi essere lì. Anche perché gli occhiali madonti, no, no. Ah, gli occhiali madonti allora ti riprendo. Se non vengono troppe persone, no, no. No, 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 no. Ti ho ripreso. Quell'amore di mamma. Chi can? Quello del cuore. Mamma mia. Ma che è posseduta. No, ma poi non mi fa niente, non so. Però è così, è un cane un po' arrabbioso lei. È una cagnolina un po' arrabbiosa. Ma è così.